carissimi amici bentornati a una nuova puntata del circo di catechesi dedicato al catechismo romano sappiamo tutti quanti la versione che stiamo studiando quest'anno di appunto per la parte diciamo così catechetica della nostra formazione è appunto questo testo non noto a molti un testo articolato diretto su fondamentalmente parroci e per orientare la loro predicazione fedeli quindi oltremodo adatto per approfondire la fede abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo già approfondito il catechismo della chiesa cattolica in vari cicli di catechesi il catechismo di san pio decimo con un ciclo di catechesi ad hoc terminato lo scorso anno e sembra appunto opportuno vedere rivedere ancora una volta perché la fede divina e cattolica è evidentemente sempre la stessa attraverso questa ulteriore articolata e bella formulazione anche se un pochino diversa da quella che noi conosciamo nei toni non nelle forme oggi dobbiamo affrontare il terzo articolo del credo il quale fu concepito di spirito santo nacque da maria vergine basso subito alla lettura senza dilungarmi troppo in preamboli e poi come al solito durante la lettura faremo qualche piccola nota di commento significato dell'articolo da quanto è stato esposto nell'articolo precedente i fedeli possono comprendere quale prezioso e singolare beneficio dio abbia accordato al genere umano chiamandoci dalla schiavitù di un tiranno crudelissimo alla libertà se poi esamineremo il piano i mezzi con i quali volle attuare ciò vedremo come nulla ci sia di più insigne e meraviglioso della benevolenza e bontà divina verso di noi bellissime queste notazioni introduttorie no schiavitù di un tiranno crudelissimo questo non dimentichiamolo mai amici cari chi pecca si consegna nelle mani del più crudele dei tiranni e che non ti molla se non quando è vinto e costretto dalla divina misericordia e cui però bisogna per grazia ricorrere e vedremo appunto leggendo come nulla ci sia di più insigne e meraviglioso della benevolenza e bontà divinazzo di noi fu concepito di spirito santo il parroco comincerà a mostrare spiegando il terzo articolo la grandezza di questo mistero che le sacre scritture propongono spesso alla nostra meditazione come il cardine fondamentale della nostra salvezza insegnerà che il suo significato è questo noi dobbiamo credere e professare che lo stesso è gesù cristo unico signore nostro figlio di dio assumendo per noi carne umana dal seno di una vergine fu concepito non già da germe virile come gli altri uomini ma per virtù dello spirito santo sopra ogni legge di natura restando la stessa persona divina che era dall'eternità divenne uomo ciò che prima non era che quelle parole si debbano intendere così risulta nettamente dalla professione di fede del sacro concilio di costantinopoli dove ha detto per noi uomini e per la nostra salvezza di cese dal cielo si incarnò nel seno di maria vergine per opera dello spirito santo e si fece uomo il medesimo concetto spiegò san giovanni evangelista che aveva attinto la conoscenza di questo sublime mistero sul petto del salvatore esposta la natura del verbo divino con le parole in principio era il verbo e il verbo era presso dio e il verbo era dio conclude e il verbo si fece carne e abitò fra noi il verbo appunto che è una delle ipostasi della natura divina ha assunto la natura umana in modo che unica fosse l'ipostasi alla persona delle due nature la divina e l'umana sicché la meravigliosa unione delle due nature conservò le azioni e proprietà dell'una e dell'altra e secondo la frase del pontevice san leone magno la sublimazione non annullò l'inferiore natura come l'assunzione non degradò la superiore stupendo amici cari spero che leggendo si comprenda per quello che si può comprendere ho sempre un pochino di difficoltà perché certamente essendo anche questo campo quella che è un po' la mia specialità la mia specializzazione è quella del dogma quindi non riesco a capire quanto dall'altra parte magari un un fedele diciamo così comune laico non ha detto ai lavori possa percepire ma qui c'è veramente qualche cosa di di bello e di splendido anche nella nell'esposizione quindi in questi pochissimi in queste pochissime righe concentra il concilio di costantinopoli il concilio di calcedonia è veramente una chiarezza straordinaria dal punto di vista dottrinale no quindi gesù è il verbo ipostasi divina ipostasi significa persona si incarna significa che rimanendo una sola persona cioè quella divina dal grembo della vergine maria per opera dello spirito santo crea insieme al padre dello spirito santo una vera natura umana che si unisce alla sua divina nell'uniche postasi della persona del verbo e questa meravigliosa unione qui il grande sanonio magno non degrada la superiore né annulla l'inferiore cioè è vero dio e è vero uomo nulla manca della divinità nulla manca dell'umanità si dice anche eccetto il peccato ma il peccato non è sapete che il peccato non appartiene alla natura umana di per sé non gli appartiene perché la natura umana è stata creata da Dio senza peccato il peccato ce lo siamo inventati noi lo abbiamo creato noi lo abbiamo prodotto noi con la nostra volontà umana ma di per sé il peccato non è affatto appannaggio della natura umana per cui quando riguardo i peccati si dice eh ma io non so mica un santo non è surumano sì questa questa frase lascia il tempo che trova amici gali quindi molto il tempo che trova sì adesso certamente la nostra natura è decaduta ma anche la nostra natura decaduta che è ovviamente una cosa più che reale ma è una anomalia quindi non è una cosa normale andiamo avanti l'opera dell'incarnazione comune a tutta la trinità è in modo speciale attribuita allo spirito santo dice si è incarnato per opera dello spirito santo si è incarnato in azione della legge di Maria dice l'articolo no? quindi attenzione con questi discorsi comune a tutta la trinità è attribuita abbiamo già visto questa dottrina no? questa è una classica aspetto della dottrina trinitaria cioè le tre persone divine non agiscono mai separatamente indipendentemente l'una dall'altro tutte le operazioni divine sono tutte operazioni congiunte sono tutte e tre le persone all'opera tuttavia alcune azioni vengono attribuite per ragioni diciamo così si chiamano tecnicamente di convenienza ad una persona l'incarnazione l'opera dell'incarnazione viene attribuita in particolare allo spirito santo perché non dovendosi trascurare la delucidazione dei termini il parro che insegnerà che se diciamo il figlio di Dio concepito per virtù dello spirito santo non vogliamo asserire che il mistero dell'incarnazione fu compiuto unicamente da questa persona della divina trinità se il solo figlio assunse la natura umana tuttavia tutte e tre le divine persone padre, figlio e spirito santo furono autrici del mistero e infatti regola imprescindibile della fede cristiana che quanto Dio opera fuori di sé nel creato è comune alle tre persone delle quali nessuna fa qualcosa senza o più dell'altra non avevo ridetto il numero ma ha ridetto quello che ho appena detto io no solamente questo non può essere comune a tutte che una persona proceda dall'altra ecco qui quindi reazione ad intra il figlio infatti è generato solamente dal padre quindi sarebbe un'eresia intollerabile dire che come il figlio è generato dal padre è così il padre è generato dal figlio non è assolutamente vero lo spirito santo poi procede dal padre e dal figlio fuori di ciò le tre persone compiono insieme senza alcuna discrepanza tutto ciò che deriva da esse fuori di loro e in questa classe di operazioni va collocata l'incarnazione del figlio di Dio ciò nonostante tra le proprietà comune a tutte le tre divine persone ve ne è di quelle che le sacre scritture sogliono attribuire all'uno all'altra delle persone e cioè abbiamo già visto il domino di tutte le cose al padre credo in un solo Dio padre onnipotente creatore del cielo e della terra la sapienza al figlio il figlio è per antonomasia la sapienza divina l'amore allo spirito santo sono attribuzioni sono e poiché il mistero della divina incarnazione che cosa è? esprime l'immensa e mirabile benevolenza di Dio verso di noi e se viene ascritta allo spirito santo in maniera precipa cioè siccome dentro la trinità allo spirito santo viene attribuito l'amore per antonomasia perché lo spirito santo procede dal padre e dal figlio per via di amore è l'amore stesso del padre e del figlio fatto persona spirante appunto dalla relazione di amore intercorrente tra i due l'opera dell'incarnazione che cos'è? non ci penseremo mai abbastanza cioè noi quando diciamo è proprio che lo spirito santo si è incarnato che nella messa in Vieto Sordo assai opportunamente si faceva una bella genuflessione piena d'amore cioè un'operazione di questo genere dovrebbe farci morire di gioia veramente cioè capiamo quale quale degnazione quale atto di di bontà cioè Dio che si fa uno di noi veramente uno di noi nostro fratello nostro amico una nobilitazione della natura umana veramente impressionante no? l'incarnazione quindi questo questo gesto diciamo così di amore estremo sommo che Dio ha voluto avere per noi è stata la causa del peccato originale degli angeli che si sono ingelositi si sono anzi imbestialiti che Dio si facesse uomo e non si facesse angelo quindi capiamo no? bellissimo quindi tra poco siamo oggi è appena iniziata la novena dell'immacolata sapete comincia la novena dell'immacolata anche se non è cominciato l'avvento e con la novena dell'immacolata almeno per quanto mi riguarda già si respira aria natalizia tanto è vero ecco lo dico così magari se qualcuno prende qualche buon esempio nella casa mia il presepe si prepara all'inizio della novena dell'immacolata quindi c'è già un paio di giorni che è già pronto e è già brilla perché no? bello no? così come toglierlo questo l'ho imparato qualche qualche lustro fa dalle dalle suore francescane dell'immacolata che il presepe si tiene fino al 2 di febbraio la festa della della candelora è bello è è bello avere questo segno che ci ricorda questa cosa fantastico questa cosa bellissima amici miei è questa cosa che poi si perpetua ogni volta che celebriamo la santa mese Gesù scende scende si fa vuo di nuovo si incarna nell'ostia e si immola nel santo sacrificio e poi si incarna per diventare uno con noi cioè io sono assolutamente convinto che non esiste sul pianeta terra niente di più bello che la santa comunione non c'è niente di più bello ma la santa comunione noi possiamo farla perché lui si è fatto uomo altrimenti addio la santa comunione no ora andiamo avanti l'incarnazione di cristo implica elementi naturali e altri soprannaturali va notato che questo mistero comprende fatti naturali e fatti soprannaturali riconosciamo riconosciamo anzitutto la natura umana nel ritenere che il corpo di gesù cristo è stato formato dal purissimo sangue della vergine madre e proprietà infatti dei corpi di tutti gli uomini l'essere formati dal sangue della madre loro ma oltrepassa ogni ordine di natura e ogni capacità di intelligenza umana il fatto che non appena la beata vergine consentendo all'angelico annuncio pronunciare parole ecco l'ancella del signore si faccia di me secondo quanto è detto immediatamente il corpo santissimo di gesù cristo fu formato e adesso fu congiunta l'anima razionale riuscendo nel medesimo istante perfetto dio perfetto uomo nessuno può mettere in dubbio che si tratti qui di una originale e stupenda opera dello spirito santo poiché nessun corpo può secondo il corso normale della natura essere avvivato da anima umana prima del tempo prescritto altra circostanza meravigliosa fu questa non appena l'anima fu unita al corpo anche la divinità si unì all'uno e all'altro e perciò appena il corpo fu formato e animato nel medesimo istante al corpo e all'anima fu congiunta la divinità da ciò segue che il salvatore fu nel medesimo istante perfetto dio e perfetto uomo e che la vergine santissima poter realmente e propriamente essere chiamata madre di dio e madre di un uomo avendo concepito simultaneamente l'uomo dio l'angelo le aveva annunziato ecco concepirai nel seno e partorrerà un figlio che porrà il nome di Gesù questo sarà grande e chiamato figlio dell'altissimo così veniva in realtà verificata la predizione di Isaia una vergine concepirai e partorrerà un figlio il medesimo evento aveva dombrato Elisabetta quando ricolma di spirito santo conobbe il concepimento del figlio di dio ed esclamò donde a me questo che la madre del mio signore venga a me bellissimo anche questo qui il sangue purissimo di Maria Vergine che forma il corpo di Gesù a cui istantaneamente tutto quanto un'operazione istantanea corpo infusione dell'anima unione ipostatica istantanea operazione riuscendo nel medesimo istante perfetto Dio e perfetto uomo l'opera di amore per Antonio Maese dello spirito santo ora nell'anima di Gesù Cristo fu la pienezza di tutte le grazie ma Cristo non può essere detto perciò figlio di Dio attenzione come il corpo di Gesù Cristo secondo quanto abbiamo detto fu formato con il sangue purissimo della più illibata fra le vergini senza intervento alcuno di uomo per solo la virtù dello spirito santo così non appena fu concepito ebbe l'anima inondata dallo spirito di Dio e dalla copia dei suoi carismi come attesta con San Giovanni Giovanni 3.34 Dio non conferì a lui lo spirito con parsimonia come agli altri individui adornati della santità e della grazia ma infuse nell'anima sua così copioso flusso di carismi che tutti dobbiamo attingerli non ci è permesso però di chiamare Gesù Cristo figli adottivo di Dio sebbene abbia ricevuto quello spirito in virtù del quale i santi conseguono l'adozione dei figli di Dio essendo figli di Dio per natura non posso nemmeno un modo convenirgli nel dono nel titolo implicito nell'adozione queste le delucidazioni che ci è sembrato opportuno presentare intorno al mirabile mistero del divino concepimento perché da esse discendano futti salutari sopra di noi i fedeli dovranno soprattutto tenere presenti alla memoria scolpiti nel cuore questi punti che propriamente fu Dio ad assumere la nostra carne facendosi uomo in maniera che né la mente può comprendere né l'umana parola può spiegare e che volle incarnarsi affinché noi uomini ritornassimo figli di Dio meditandoli con attenta cura non tralascino mai di credere di adorare con cuore confidente tutti i misteri racchiusi in questo articolo astenendosi da ogni curiosa indagine o analisi che non sarebbero senza grave pericolo mi permetto di fare adesso qui un pit stop proprio evidenziando queste ultime raccomandazioni e precisazioni allora Dio si è fatto uomo in questo modo mirabile ma la mente non può comprendere né la parola umana spiegarla cioè come sempre noi sappiamo dalla fede che cosa è successo quello possiamo identificarlo abbastanza bene l'abbiamo già visto due o tre volte no il verbo si fa carne la seconda persona della santissima trinità con atto istantaneo e contestuale assume nell'unità della sua divina ipostasi la natura creata per opera dello spirito santo nel grembo della vergine maria un corpo tratto dal suo sangue l'anima razionale creato immediatamente da dio unita alla persona del verbo con due nature perfettamente integre non confuse ciascuna funzionante alla perfezione nelle sue proprietà ma unite pur rimanendo distinte in un unico supposito divino la persona del verbo quindi questo mistero che va creduto da dorato con cuore confidente astenendosi da ogni curiosa indagine o analisi ecco quindi cioè dinanzi a questi misteri terminato ciò che la sapienza della chiesa evidentemente a cui ha è come dire alla cui produzione diciamo così ha concorso il genio di alcuni grandi per esempio sul mistero dell'incarnazione San Leone Magno è stato citato già uno dei uno dei fari ecco stupendi bellissimi meravigliosi ecco però curiosità e indagini o analisi in debiti non sono senza grave pericolo ora io ogni tanto ho avuto modo di dirlo no nelle cose di Dio della fede è certamente una cosa buona il desiderio di conoscenza per carità buonissima ma lo spirito curioso che va a indagare e ad analizzare ciò che è ineffabile con la pretesa in qualche modo di bucare il mistero è atteggiamento assolutamente da riprovare e da bandire già la curiosità non è mai una cosa buona mai nemmeno nelle cose umane figuriamoci amici cari nelle cose e nei misteri divini quindi attenzione a stare alla larga maria vergine partori cristo nacque da maria vergine ecco la seconda parte di questo articolo il parroco la spiegherà con particolare cura dovendo i fedeli credere non solo che gesù cristo fu concepito per virtù dello spirito santo ma che nacque da maria vergine dalla quale fu dato alla luce quanta intima letizia scaturisca dalla contemplazione di questo mistero fu già indicato dalla voce angelica che prima recò al mondo la felicissima novella eccomi a recarvi l'annunzio di grande allegrezza per tutto il popolo questi sono gli angeli che cantano il gloria secondo l'angelo di Lucca no? appare parimenti dal cantico della milizia celeste intornato dagli angeli gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà e così cominciavano ad attuarsi la grandiosa promessa di Dio ad Abramo che dovevano essere un giorno benedette nel seme suo tutte le nazioni della terra perché la possibilità di essere da tutti di essere tutti benedetti risiede nel fatto che il verbo si è fatto carne infatti Maria che noi proclamiamo e onoriamo vera madre di Dio avendo partorito chi era insieme Dio e uomo discendeva dal re Davide Mirabile nascita di Gesù Cristo come il concepimento di Cristo supera ogni ordine di natura nella sua natività parimenti nulla accogliamo che non sia divino nacque Gesù infatti dalla madre che cosa si sarebbe mai potuto immaginare di più miracoloso senza detrarre alcunché alla materna verginità e qui viene fatto proposto una celebre e antica analogia nota già dall'età patristica come più tardi egli uscirà dalla tomba chiusa e sigillata e penetrerà nel luogo dove saranno radunati i discepoli nonostante le porte serrate o come i raggi del sole per non uscire dall'ambito dell'esperienza naturale di ogni giorno attraverso una compatta sostanza del vetro senza romperla o comunque elederla in maniera molto più sublime Gesù Cristo uscì l'azione materna senza la minima offesa alla dignità virginale della sua genitrice capiamo questi esempi no? Gesù io lo dico sempre nelle pratiche di Pasqua uscì dal sepolcro con la tomba ancora chiusa c'è uno dei racconti evangelici credo che non ricordo male che sia Matteo che spiega chi è che ha rotolato la pietra non è stato Gesù sono stati gli angeli dopo la risurrezione cioè il rotolare la pietra è funzionale al fatto che qualcuno andasse a vedere che il sepolcro era vuoto perché se la pietra non fosse stata rotolata nessuno avrebbe pensato che il sepolcro era vuoto ma Gesù non è che per uscire risorto hai bisogno di togliere la pietra infatti è entrato anche nel cenacolo a porte chiuse gli insegna un altro esempio fantastico dice i raggi del sole no? se tu c'hai la finestra la finestra è fatta di di vetro no? non è che per che che fa entrare i raggi del sole di aprire la finestra di aprire le tapparelle ma il vetro viene trapassato dai raggi del sole senza che questo gli crei alcuna lesione ed ecco immagini tutte e quante immagini del parto virginale il parto di Gesù non ha recato alcuna menomazione e alcuna minima offesa alla dignità virginale della sua genitrice e per questo ne celebriamo con l'odi giustissime l'incorruttibile perpetua virginità privilegio attuato per virtù dello spirito santo che assiste la madre nel concepimento e nel parto in modo da garantire la fecondità da conferire la fecondità conservandole la permanente integrità virginale sapete che questo è uno degli argomenti fortissimi in forza dei quali i padri della chiesa rimando al ciclo di Catechesi fatto a suo tempo sul peccato originale si chiama il peccato originale l'origine di ogni male per pensare che lo stato pensato da Dio e voluto da Dio che sarebbe dovuto essere per ogni uomo era lo stato di virginità lo stato virginale per tutti il matrimonio prima del peccato originale era un matrimonio virginale non è come lo conosciamo oggi i figli non si concepivano nella concupiscenza per concepire un figlio non dovevi violare la virginità della madre no né il parto sarebbe stato così doloroso e travagliato come è adesso per tutte le figlie di Adamo e di Eva no Maria ne è la dimostrazione come dire per antonomasia eccellentissima allora paragone fra Gesù Cristo e Adamo fra Maria e Eva l'apostolo chiama ripetute volte Gesù Cristo nuovo Adamo e lo paragona all'antico in realtà se tutti gli uomini muoiono nel primo il peccato originale sottointeso tutti sono richiamati a vita nel secondo questa è la prima lettera di Corinzi capitolo 15 e come Adamo è stato il padre del genere romano nell'ordine della natura questa è Romani 514 così Gesù Cristo è per tutti l'autore della grazia e della gloria sapete amici che ci sono tre livelli della nostra diciamo così esistenza la natura noi siamo uomini appartenenti al genere umano e questa chi ce la dà la natura e ce la dà il nostro progenitore siamo suoi figli tutti ci piaccia o non ci piaccia volenti o nonenti ma la grazia e la gloria da dove vengono da nostro signore Gesù Cristo la grazia è l'elevazione della natura umana che viene quindi capace resa capace di compiere operazioni soprannaturali che ci consentono di raggiungere la gloria cioè la condizione di perfetta beatitudine mentre la natura la riceviamo dal nostro progenitore Adamo grazie e gloria le riceviamo da Gesù Cristo in persona parimenti si può stabilire quindi come Gesù Cristo è il nuovo Adamo perché il primo ci ha dato la natura il secondo ci dà la grazia e la gloria ma parimenti si può stabilire una analogia fra la Vergine Madre seconda e la prima analogia corrispondente a quella sovraillustrata per il secondo Adamo Cristo e il primo avendo creduto alle lusinghe del serpente Eva tirò sul genolo umano la maledizione alla morte avendo Maria creduto all'annuncio dell'angelo fece sì che la bontà di Dio ridonasse agli uomini la maledizione alla vita questi sono temi notissimi già dai tempi della patristica a causa di Eva nasciamo figli della collera a causa di Eva perché certo che il peccato originale si è trasmesso perché è stato compiuto da Adamo quindi perché Eva ha trascinato Adamo nel compierlo ma chi è stata quella che ha cominciato quella che è stata la seduttrice è stata Eva la prima peccatrice a causa di Eva nasciamo figli della collera quindi Efesini 2-3 ma da Dio ricevemmo Gesù Cristo per merito del quale siamo rigenerati come figli della grazia a Eva fu detto partorirei figli nel dolore Maria fu esente dalla dura legge e salva restando nell'integrità della virginale pudicizia partorì Gesù Cristo figlio di Dio senza alcun dolore come sopra abbiamo detto quindi attenzione io quando commento questo articolo diffidate sempre di film o cose del genere che fanno vedere la Madonna che partorisce gridando la Madonna non ha gridato affatto nel partorire il figlio di Dio è semplicemente stata per lei un'estasi sublime e attenzione che non ci va adesso un altro di film ancora più blasfemo perché sapete che la blasfemia non c'è mai fine che addirittura non soltanto umanizza Maria Santissima ma gli attribuisce anche passioni inqualificabili cioè amani umane lo faranno purtroppo vedere al Torino Film Festival è una cosa veramente allucinante quello che si legge in queste recensioni altri segni proprio veramente emblematici di come stiamo vivendo in tempi caratterizzati da altissimi tassi di corruzione io non so quale sceneggiatore si prende la responsabilità di andare a scrivere una roba del genere quale regista di doverlo mettere in essere gli attori che va va bene tipi e profezie dell'incarnazione del Signore andiamo a leggere andiamo avanti col catechismo che è meglio essendo tanto numerose in segni le meraviglie racchiose nel concepimento e nella natività fu opportuno che la divina provvidenza ne annunziasse l'avvento con molte immagini e predizioni i santi dottori hanno interpretato come pertinenti a questo mistero molti passi strutturali principalmente hanno inteso come figurativa la porta del santuario che Zechiere vide serrata 44,2 la pietra che secondo la visione di Daniele si stacca senza intervento umano dalla montagna per chi va ammessa l'abbiamo sentito ammessa ieri tutti i giorni è divenuta a sua volta un alto monte e riempie tutta la terra poi la verga di Eronne che unica tra le verghe dei capi di Israele miracolosamente fiorisce numero 17,8 il roveto infine che Mosè vide ardere senza consumarsi del resto l'evangelista narra minutamente la storia della natività di Gesù Cristo e a noi non conviene insistervi potendo il parroco leggerla direttamente l'incarnazione di Gesù Cristo mirabile esempio di umiltà il parroco dovrà spiegare assiduo zelo affinché tali misteri registrati per nostra istruzione attenzione aderiscano intimamente all'intelletto e al cuore dei fedeli anzitutto perché ricordo di così segnalato beneficio rispinga a tributarne grazie all'autore Dio cioè amici noi abbiamo mai detto Dio grazie non cioè le parole della liturgia lo ripetono in continuazione nei prefazzi in tante altre formule eucologiche ma tu a tu per tu con il tuo signore gli hai mai detto ma grazie infinite che sei diventato come me ma io dovrei impazzire abbiamo mai pregato in questo modo se il parroco dovrà spiegare assiduo zelo perché ricordo di così segnalato beneficio spinge fedeli a tributarne grazie all'autore Dio in secondo luogo perché dinanzi ai loro occhi sia stimolo alla imitazione un così meraviglioso esempio di umiltà riflettere spesso alla maniera in cui Dio vuole umiliarsi per comunicare la propria cosa agli uomini fino ad assumere la ragione infermità meditare la degnazione di un Dio che si fa uomo e pone a servizio dell'uomo quella sua infinita maestà al cui cenno secondo la parola biblica tremano di sbigottimento alle corone del cielo Giobbe 26 11 contemplare il mistero della nascita sulla terra di chi è nei cieli adorato dagli angeli tutte queste cose costituiscono senza dubbio l'esorcizio più utile ai nostri spiriti il più efficace per debellare la nostra superbia se Dio compì tutto ciò per noi che cosa non dovremmo fare noi per obbedirgli con quanta prontezza e alacrità d'animo non dovremmo noi prediligere e attuare tutti i doveri dell'umiltà vedete questi sono passaggi veramente molto belli ed edificanti no la premura della chiesa che la cui sollecitudine proprio traspare pulsa da questo da questo catechismo che tu non soltanto ci pensi bene profondamente impara a ringraziarne il Signore ma comprendendo ne trae le dovute conseguenze Gesù è stato così umile ma io sono umile come Lui cioè almeno ci provo chi è che è sceso sulla terra quello appunto che trova dagli angeli quello pieno di infinita maestà a cui scendono tremmo di più continuamente tutte quante le colonne del cielo e noi dobbiamo ascoltarlo no senza bisogno che ci sia quello che dice il padre questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo questo lo dice sul sul tambor sì certamente ne prendiamo atto ma è ovvio che lo ascoltiamo uno che ha fatto tutte e tante queste cose per noi come fai a non ascoltarli come fai a non obbedirli a non fidarti di lui riflettano i fedeli di quanta salutare dottrina Cristo pargolo ci nutre prima di articolare parola ecco nasce povero è respinto dall'albergo nasce in una miserrima stalla a mezzo inverno bellissimo no scrive infatti San Luca lo fasciò e lo posero in una mangiatoie perché non trovarono posto nell'albergo avrebbe potuto l'evangelista nascondere sotto parole più umili la maestà la gioia che riempiono cielo e terra non dice genericamente che non vi era più posto nell'albergo ma che non ve ne era per colui che può dire mia è la terra con quanto contiene tale testimonianza la conferma di un altro evangelista venne nella sua proprietà e non lo accolsero bellissimo l'incarnazione manifesta ecco un altro punto la dignità umana mentre mediteranno tutto ciò i fedeli non dimenticheranno che Dio volle sottostare all'umine fragilità della nostra carne affinché il genere umano fosse innalzato al più alto livello della dignità questo è un altro aspetto fondamentale e questo è il motivo per cui la scuola francescana con alla testa Giovanni Dunscoto ha sempre affermato ed è una cosa a mio avviso vera al 100% anche se la scuola domenicana ovviamente con San Tommaso in testa lo negava che il figlio si sarebbe fatto uomo anche senza il peccato perché questa cosa quindi la incredibile nobilitazione della natura umana sarebbe rimasta lo stesso ed era questo ciò che l'Altissimo aveva pensato come piano A come piano principale per noi quindi che l'uomo rimanendo senza peccato non avrebbe avuto bisogno del Redentore ma comunque il verbo incarnandosi avrebbe elevato tutta l'umanità ad una natura ed una condizione sublime ad una dignità sublime che prima te la sono comprendiamo giusto sufficientemente traspare la nobiltà in signe conferita all'uomo per dono divino dal fatto che fu uomo colui che era nel medesimo tempo vero e perfetto Dio bello eh veramente da farsi proprio un respirone e poi noi possiamo ormai dire con orgoglio che il figlio di Dio è ossa e carne nostra cosa che non possono fare gli spiriti beati cioè gli angeli ha detto l'apostolo ha assunto la natura dei figli di Abramo non la natura angelica ebrei 2 16 orgoglio orgoglio ma ha capito orgogliosi orgoglio non è peccato sì ma se io sono orgoglioso che il verbo si è fatto carne non solo che è peccato è stupendo orgogliosi ecco perché il centro di convergenza di tutta la nostra spiritualità deve necessariamente essere a mio avviso Gesù e Maria quei nomi sempre instancabilmente sulle labbra e con atti di amore infiniti cioè Gesù ti amo e Maria ti amo dovrebbero essere proprio canti ininterrottamente presenti sulle nostre labbra e sui nostri cuori in continuazione in continuazione e esorto tutti chi non avesse ancora l'abitudine a farlo più che si può certo quando noi diciamo il rosario a ogni Ave Maria lo dico sempre ci diciamo due volte il nome di Maria e una volta il nome di Gesù sapete che si dice che San Francesco quando pronunciava il nome di Gesù spesso e volentieri si passava la lingua sulle labbra perché avendo pronunciato con le labbra appunto il nome Gesù voleva sentire attraverso questo gesto da innamorato la fragranza e la dolcezza del nome di Gesù quindi io l'ho nominato sarà rimasto qualcosa sulle mie labbra via facciamo una bella ripassata per poterlo sentire nel cuore orgogliosi che il figlio di Dio è ossa e carne nostra infine ultimo paragrafo di questo bellissimo articolo così concludiamo anche noi questa nostra puntata a Gesù Cristo dobbiamo preparare una dimora nei nostri cuori guardiamoci bene dal far sì che per nostra disgrazia come non trovo posto nell'albergo per nascere cosa evidentemente non casuale così come la presenza del bue e dell'asinello sapete come inizia il libro del profeta Esaia ma proprio subito all'incipit perché c'erano il bue e l'asinello che c'erano veramente il bue e l'asinello il versetto 3 del primo capitolo del libro del profeta Esaia dice queste parole il bue conosce il proprietario e l'asino la greppia la greppia del padrone ma Israele non conosce il mio popolo non comprende ecco qua capite perché il bue è l'asinello capite perché non c'era posto nell'albergo qui a ogni Natale perché noi possiamo essere come il bue e l'asino anzi non non possiamo non essere come il bue e l'asino perché il bue conosce il proprietario e l'asino la greppia noi siamo come il bue conosciamo bene chi è Gesù siamo come l'asino andiamo alla greppia del padrone ci nutriamo solo dell'eucharistia oppure facciamo come i membri dell'antica alleanza Israele non conosce il mio popolo non comprende o addirittura non preparare un posto nell'albergo della nostra anima Gesù ripeto guardiamoci bene dal farsiche per nostra disgrazia come non trovo posto nell'albergo per nascere così non ne trovi nei nostri cuori quando viene per nascervi non corporalmente ma spiritualmente desidera il Signore Gesù Egli bramosissimo com'è della nostra salvezza questa mistica natività Natale è la festa in cui ci dovrebbe essere una nuova mistica nascita di Gesù nel nostro cuore le mistiche nascite non ce ne sta una per tutte quindi immaginate quale aberrazione sia a prepararsi a Natale cominciando ad andare in giro per negozi per cose per impiccia fa solo quello e poi pranzi cene giocate a carte a tombola eccetera eccetera così Natale non voglio fare le pratiche da parrocozzo però amici che di fatto questo è così Natale diventa una scusa per fare tutto meno che l'unica cosa che si deve fare cioè far nascere spiritualmente Gesù nel nostro cuore questo è Natale io leggo le conclusioni perciò come egli si fece uomo nacque e fu santificato anzi fu la santità stessa per virtù dello spirito santo in maniera soprannaturale così occorre che noi nasciamo non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo ma da Dio e che dopo ciò procediamo nella vita come creature rinnovate in novità di spirito qui è sempre infarcito di citazione biblica crisi romani 6 4 versetti 4 e 5 capitolo 7 versetto 6 custodendo gelosamente quella santità attenzione e integrità di mente che si addicono a individui rigenerati nello spirito di Dio altro motivo per essere tronfi orgogliosi sto raccontando a San José Maria di Scrivano nei suoi scritti di quel ragazzo a cui lui gli aveva detto guarda che tu sei figlio di Dio e Chiara tornava da lui a dirgli ma scusi padre ma veramente sono figlio di Dio perché io sinceramente mi sono sorpreso in più di qualche circostanza in questi giorni a essere tutto tronfi tutto contento ammazza io sono figlio di Dio ma sarà superbia e il santo ha detto no no coltivala pure questa superbia non ti preoccupare questa si può coltivare anzi si deve così ritrarremo in noi stessi una qualche sembianza di quella concezione e una debita del figlio di Dio in cui crediamo fermamente e che accogliamo e adoriamo come il mistero che racchiude il capolavoro della sapienza divina quindi santità di vita e integrità di mente integrità di mente il cervello che funziona al top possibile perché il cervello anzitutto deve funzionare ma quando è illuminato dalla fede funziona al top io concluderei a proposito di questa integrità di mente io raccomando sempre alle persone impariamo a far funzionare bene il cervello perché se funziona il cervello cresce anche la fede e anche una persona che la fede ancora non ce l'ha o l'ha persa l'unica speranza di ritrovarla è che gli funzioni bene il cervello perché se non gli funziona bene il cervello soltanto non c'è la fede ma non c'è nemmeno la ragione è proprio la rovina quindi la ragione senza la fede può stare di per sé no ma di fatto ci sta ecco ma la ragione senza la fede sarà vinta se il cuore rimane aperto al mistero dell'incarnazione ma la fede può stare senza ragione no no perché guardate che la fede non è razionalmente spiegabile l'abbiamo visto questa sera non possiamo bucare il mistero e capire tutto però è sommamente ragionevole l'abbiamo visto questa sera c'è un motivo per cui è stata l'incarnazione specialmente adesso quindi perché Dio non fa mai cose illogiche ne ordina mai assolutamente atti di fideismo cieco assolutamente bene con questo possiamo credo salutarci e darci appuntamento alla prossima puntata di questo che a me personalmente piace assai ciclo di catechesi che Dio vi benedica a tutti e la Santa Vergine sempre vi protegga e ci vediamo se ti vuole alla prossima a di Maria